Ha riaperto con la sua nuova collocazione nei locali comunali di Palazzo Fossombroni in Piazza San Domenico il centro di accoglienza per persone senza dimora che sarà gestito dalla Caritas Diocesana. La struttura di accoglienza invernale sarà fruibile fino al 30 aprile. Caritas si impegnerà con i volontari e gli operatori a gestire questo luogo, questo servizio per tutti coloro senza dimora che ne faranno richiesta tramite appunto il nostro centro di ascolto diocesano che rilascerà i pass per entrare nella struttura. Lo spazio è per 20 posti letto, per arrivare anche a 24 massimo come ospitalità sia per uomini che per donne. Quest'anno c'è una novità sul discorso che i proprietari anche di animali, soprattutto i cani, possono poter accedere alla struttura però con uno spazio dedicato all'esterno per il cane o per l'animale. Coloro che sono interessati a svolgere un'attività di volontariato a favore dell'accoglienza notturna per i senza dimora possono rivolgersi agli uffici della Caritas diocesana in via Fonte Veneziana 19 dal lunedì al venerdì in orario 9.13.15.18 telefonando al numero 0575 182961 o inviando una mail a caritaschiocciolacaritas.arezzo.it Abbiamo gestito i primi tre anni del dormitorio invernale praticamente solo con il contributo del volontariato cristiano. Ci piacerebbe diventasse un progetto della città di Arezzo aperto a tutti e tramite i colleghi responsabili di organizzare i turni del volontariato si può tranquillamente dare il nominativo presso la Caritas diocesana.